Nessun slittamento, il voto della Giunta per le autorizzazioni su Salvini in riferimento al caso della nave Gregoretti tenuta in mare per sei giorni con a bordo migranti si terrà il 20 gennaio. Domani verrà presentata la proposta per l'autorizzazione. I tempi sono assolutamente congrui per consentire a ciascuno di intervenire, di dire quello che riterrà di dire e poi fare il 20, le dichiarazioni di voto e la votazione sulla relazione che domani presenterò. I partiti della maggioranza sono orientati per concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini, allora era ministro dell'interno, e di procedere al Senato entro 60 giorni. I più decisi, 5 Stelle alle prese, sempre con la vicenda rimborsi in 45, non avrebbero versato i contributi, sarebbero pronte delle azioni disciplinari già nella giornata di domani e sempre domani si terrà il vertice sulla prescrizione. Domani il vertice sulla prescrizione. Lei ha fatto una proposta nuova? Domani ne parliamo, grazie. Restano le distanze tra 5 Stelle e Italia Viva, di Renzi al PD. Il compito di mediare. Resta aperto anche il nodo all'Italia, il 31 maggio non è il termino entro il quale deve avvenire la cessione dell'All'Italia, lo ha detto il ministro per lo sviluppo Patronelli, per il quale la strada migliore sarebbe il passaggio al gruppo Ferrovie dello Stato e Delta.